Saonara è caduto da poco più di due metri di altezza mentre stava eseguendo la manutenzione di un aspiratore sbattendo violentemente sul pavimento. Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Padova. L'operaio 31enne si trovava all'interno di uno stabilimento di un'impresa specializzata nella fusione dei metalli. E' stato ricoverato in ospedale dove oltre alle cure gli sono stati effettuati dei controlli specifici sul luogo degli incidenti anche i carabinieri.